per averci fatto partecipare a una vostra festa così importante e per avere genato insieme a noi che credo sia il metodo migliore per far nascere delle amicizie quando si divide una tavola, si parla insieme, si condividono le cose, si diventa sempre più vicini e sempre più amici e questo è un bellissimo passo che avete fatto nei confronti dell'amministrazione comunale e sono orgoglioso di essere stato qui con voi vi auguro un buon proseguimento del vostro Mese Sacro e spero che possiate trovare sempre nella nostra città un clima accogliente, piacevole, pacifico un posto dove vale la pena di vivere, vale la pena di investire, vale la pena di impegnarsi perché diventi ogni giorno sempre più bello siamo una comunità grande, siamo una comunità diversa con tante amiche ma se tutti noi mettiamo il nostro amore all'interno di questa comunità per farla crescere meglio sarà una comunità sicuramente più bella per tutti grazie per tutti voi